Approvata dal Consiglio Comunale di Forlì e da quello provinciale la ricapitalizzazione di SEAF, la società aeroportuale di Forlì, per 3 milioni di euro. Ma sarà l'ultima volta che vedrà soldi pubblici impegnati nel permettere la sopravvivenza della società aeroportuale. Il Comune dovrà farsene care con il 49% e la provincia al 7,5% circa. Il resto toccherà agli altri soci. Nelle due delibere approvate è contenuto una precisa indicazione temporale, frutto di un emendamento presentato da Italia dei Valori, in virtù della quale, se entro il prossimo 30 aprile 2012, non sarà realizzato il tentativo di dare vita a SAER, cioè la società di gestione unificata dai tre aeroporti di Bologna, Rimini e Forlì, la SEAF avverrà messa in liquidazione. Occorre ora perciò attendere i frutti del lavoro del Presidente della Camera di Commercio di Bologna, Bruno Filetti, a cui è stato affidato durante il vertici tenutosi a Bologna lo scorso 9 dicembre il compito di redigere il piano industriale della nuova società. Sull'eventuale liquidazione di SEAF, la Lega Nord, che per la prima volta ha votato contro il rifinanziamento pubblico dell'aeroporto Ridolfi, la considero un'opzione positiva. Il parlamentare Gianluca Pina ha infatti annunciato di avere la certezza sul forte interessamento all'aeroporto di Forlì da parte di alcuni grandi operatori del Nord Italia, esattamente da Lombardia e Veneto. C'è da augurarsi che si arrivi alla liquidazione della società, così invece che regalare l'aeroporto a Bologna andrebbe sul mercato. E allora, secondo Pini, si farebbero avanti gli investitori privati che non avrebbero più l'obbligo di trattare con la proprietà pubblica, con i politici, ma solo con il liquidatore.